In angolo si va da Parks che ci prova, ce l'ha nel suo DNA, ma non riesce a metterla Taker, vuole dare un segnale a regione Taker, ma cosa ha fatto regione Taker? Non so cosa succederà nelle altre partite, ma direi giocata numero uno top ten, chiudete! Non so cosa succedere, ma direi? Non so cosa succedere, non lo so interessante Oh, the fiery finish! Ray John Tucker 11 straight defeats Well, he's back on the winning track Back to Vives, who's dispossessed Here goes Spitzu, set up! Oh, ho, ho! This time All right, he slams it home All the gaps in the defense Drives up, oh, ho, 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 ho! Oh, ho, ho! Ho, 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 ho! La schiacciata per tema ancora per Caragher, è certo che non un bel canesso da prendere per la Virtus e punto per un ottimo Gora Camarata. La banchina davvero risposta, portati la sua banchetta. Tacolo! Perché a Roland di Bruxelles si apre oltre l'arco, va letto fino in fondo. La banchetta va bene, sfida, continui, non a stare con lui, ma di via. Tuckers si è preso un rischio, qui attacca l'area, resiste! Tuck, nicely done up, il pallone, poi il taglio dentro di Simms, gran circolazione di palla da parte di Venezia con Taker! Gota per Nicolaou, parte Taker, è uno contro uno! La finta su con Stein, corone per Taker, ancora più rincorza! E riesce a trovare uno splendido... Brown Junior ancora fuori, pone per Taker. Il pallone è la sua... Taker, qualità! La finta su con Stein, corone per il pallone! Salve, mani a testo con Iso! Liuno, manno di suoi occhi, si fai il banchio di Tito, il taglio ancora per lo svitar si fa, si botta indietro sulla sirena! La sirena, la sirena... La sirena! La sirena si è presa! La sirena si è presa di Temer. La sirena si è presa! La sirena si è presa! E la sirena si è presa! La sirena si è presa! La sirena si è presa! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.